FALSE FATTURE IN UNA ONLUS 5 DENUNCE A URBINO INCIDENTI A MONTE LA BATE E URBANIA DUE FERITI SOCCORSI IN ELLEAMBULANZA INCENDIO A PETRIANO A FUOCO IL TETTO DELL'INDUSTRIA FAB A PESARO PARTONO DUE MESI DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA ZONA MARE COLAZIONI A 2 EURO L'OFFERTA ANTI-INFLAZIONE DI UN BAR PESARESE Buonasera, benvenuti al nostro telegiornale Rossini News in questo mercoledì 18 ottobre. Apriamo con alcune notizie di cronaca che hanno caratterizzato questa giornata. La prima viene da Urbino dove la Guardia di Finanza ha scoperto una cooperativa sociale ONLUS gestita da una famiglia che emetteva sistematicamente fatture false per un giro d'affare di quasi 5 milioni di euro. Vediamo. È stata chiamata Spettro l'attività di indagine della Guardia di Finanza di Urbino che ha stroncato un giro di numerosi illeciti rilevati in materia di reati tributari, fallimentari, bancari e di riciclaggio posti in essere da uno stesso gruppo familiare che ricopriva vari incarichi all'interno di una cooperativa ONLUS operante nel settore socioassistenziale e di un'altra società di servizi collocata nella stessa sede. Le indagini hanno riguardato prestazioni a largo spettro fatturate dalla società di servizi in adempiente a livello civilistico e fiscale alla ONLUS in due annualità per quasi 700 mila euro e rivelatesi gonfiate DOC al fine di generare crediti fiscali inesistenti nonché ad eludere la normativa che limitava la distribuzione degli utili ai soci. Indagini che sono state portate avanti attraverso intercettazioni telefoniche, analisi del contenuto di computer, smartphone e server aziendali sottoposti a sequestro durante perquisizioni eseguite nei confronti degli indagati. Le attività di indagine hanno riguardato anche una richiesta di decreto ingiuntivo per oltre 400 mila euro formulate al Tribunale di Urbino sulla base di documentazioni rivelatesi false o manipolate. L'operazione ha così portato a segnalare all'autorità giudiziaria i componenti delle compagini sociali delle due società coinvolte, gli amministratori e due commercialisti che a vario titolo sono risultati coinvolti in relazione all'ipotesi di reato, di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, nonché di omessa dichiarazione, autoriciclaggio, falso indotto in atto pubblico e falso nelle attestazioni relazioni del professionista, nonché di mendaccio bancario e false comunicazioni sociali. È stata data esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Urbino sulla richiesta della procura per quasi un milione di euro con il sequestro di liquidità finanziarie, beni preziosi, quote societarie, tre automobili, immobili e terreni nella disponibilità delle persone indagate. Tra l'altro è stato anche rilevato come il villino adibito a residenza di uno degli indagati risultasse essere in realtà censito a livello catastale come un capanno agricolo. A livello tributario sono state concluse attività di verifica fiscale finalizzate alla riqualificazione dell'attività aziendale svolta dall'Onlus in quella svolta da una società a scopo di lucro disconoscendo oltre che i costi per fatture per prestazioni inesistenti anche ogni tipo di agevolazione fiscale adottata dalla società in virtù del suo status giuridico quantificando per oltre un milione e mezzo le imposte dovute dalla società. Ed ora cambiamo argomento perché in provincia di Pesaro oggi è stata una giornata funestata da due gravi incidenti stradali con altrettanti feriti soccorsi in eliambulanza. Le immagini che vi mostriamo si riferiscono alla strada montelabattese che è rimasta chiusa al traffico fra le 14.30 e le 15.30 fra chiusa di Ginestreto e Montelabate a causa di uno scontro frontale fra una Opel Meriva guidata da un 25enne e un camion che trasportava materiali infiammabili guidato da un 36enne. La violenza dell'impatto per causa in fase d'accertamento ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza che ha trasportato il conducente dell'auto in codice rosso all'ospedale Torrette di Ancona. Il camionista è stato invece trasferito in ambulanza al pronto soccorso di Pesaro per accertamenti. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia locale. L'altro grave incidente della giornata di oggi è avvenuto questa mattina alle 7 sulla strada Metaurense fra Urbania e Fermignano dove come si vede da queste immagini un'auto è rimasta in bilico sul ponte del fiume Metauro rischiando di precipitare. Providenziale l'intervento dei vigili del fuoco che hanno ancorato la vettura ed estratto dall'abitacolo la donna al volante. Donna che è stata soccorsa in l'ambulanza è trasportata all'ospedale Torrette di Ancona. L'incidente ha coinvolto l'auto in questione, una seconda vettura e un furgone. La dinamica è in via di accertamento. Un'altra donna coinvolta nel sinistro è stata trasportata al pronto soccorso con ferite non gravi. E questa mattina alle ore 9 i vigili del fuoco sono intervenuti anche a Gallo di Petriano dove ha preso fuoco il tetto di un capannone della FAB, industria di componenti per mobili. Tetto che ha preso fuoco durante un'operazione di catramizzazione. Repentino l'intervento dei carabinieri che nel giro di un'ora hanno messo in sicurezza l'area da quantificare i danni alla struttura. Ed ora ci spostiamo nella zona mare di Pesaro dove dal 23 ottobre fino alla fine di dicembre comune e marche multiservizi effettueranno una pulizia straordinaria del quartiere. Un intervento che comporterà un rigido calendario di divieti di sosta in tutti i giorni feriali. L'autunno entra nel vivo aumentando il suo carico di fogliame caduto sui manti stradali con annessi rischi di caditoi otturate. Comune e marche multiservizi decidono allora di apparecchiare un'operazione di pulizia straordinaria nelle vie della zona mare dal 23 di ottobre fino a fine dicembre in ogni giorno feriale dalle 12 alle 18. Abbiamo deciso di fare questa sperimentazione che potrà creare qualche disagio ma il nostro obiettivo è avere ovviamente la città più pulita. Noi come comune e con marche multiservizi cerchiamo di fare la nostra parte e l'occasione anche per sensibilizzare i cittadini rispetto all'educazione civica e magari evitare di buttare cicca a terra pezzi di carta che poi ovviamente gli operatori sono tenuti a raccogliere però noi come comunità dovremmo sporcare il meno possibile. Stiamo facendo molto, non facciamo tutto, potremo fare sempre meglio è sicuro però abbiamo bisogno ripeto dalla collaborazione di tutti. Questa sperimentazione che andiamo a proporre sulla zona mare coprirà l'arco dal lunedì al venerdì cinque giorni della settimana in piccoli tratti di Viale Trieste, di Viale Trento, di Viale Cesare Battisti diciamo da Viale della Repubblica verso nord, da Viale della Repubblica verso sud con un calendario prestabilito. Questo ci permetterà innanzitutto di fare una pulizia più profonda dei marciapiedi delle strade e anche di pulire le caditoie che sono in questi periodi di piogge un po' pazze il tema che i cittadini in qualche modo affrontano più spesso. Ci dicono le caditoie sono da pulire, si allaga qui si allaga di là. Le caditoie noi proviamo a pulirle, per pulire ovviamente non ci devono essere le macchine parcheggiate sopra, abbiamo fatto questo lavoro in via Cecchi, ci abbiamo impiegato qualche ora in più perché c'erano ancora troppe macchine parcheggiate, questa volta avvisiamo con l'arco anticipo, cerchiamo di farlo informando o utilizzando tutti i mezzi di comunicazione possibile e ovviamente se ci sono le macchine parcheggiate sopra la polizia locale dovrà fare il suo lavoro, quindi invitiamo i cittadini a rispettare gli orari e a non lasciare la macchina dalle 12 alle 18 parcheggiate nella zona di intervento e se questo modo di intervenire sulla pulizia delle strade, di marciapiede, delle caditoie funziona pensiamo di svilupparlo anche in altre parti della città. Il calendario delle operazioni di pulizia con annessi di vieti di sosta prevede dunque che si interverrà ogni lunedì in Viale Trento nel tratto compreso fra Viale della Repubblica e Viale Napoli, ogni martedì in Viale Battisti nel tratto compreso fra Viale della Repubblica e Viale Napoli, ogni mercoledì in Viale Trieste nel tratto fra Viale della Repubblica e Largo Beato Liviero, ogni giovedì in Viale Trento nel tratto compreso tra Viale della Repubblica e Viale Rosselli e in tutto Viale Pagano e infine ogni venerdì in Viale Battisti nel tratto compreso tra Viale della Repubblica e Viale Rosselli e in tutta Via Romagnosi. Il tipo di intervento consisterà avendo la sede stradale completamente libera di poter fare in maniera efficace ed efficiente una pulizia approfondita quindi le macchine non ci saranno, riusciremo a pulire quegli spazi che normalmente con il soffiatore non riusciamo a pulire ovvero lo spazio che c'è tra il marciapiede e il pneumatico dell'automobile e questo sarà fatto settimanalmente in maniera da prevenire il più possibile l'ostruzione delle catidoie in una zona come quella del centro mare abbastanza critica. Come avete già sentito saranno due mesi, due mesi di sperimentazione che se avranno il successo che pensiamo e che tutti si dovrebbero auspicare potranno essere estese anche ad altre zone della città. L'inflazione sta aggravando pesantemente sulle tasche dei cittadini ma c'è chi prova a contenere i prezzi per andare incontro ai propri clienti. È il caso di un bar pesarese che da questa mattina propone la colazione anti-inflazione. Vediamo che cos'è. Periodo complicato per tante famiglie pesaresi, c'è l'inflazione che pesa sulla vita di tutti i giorni però ci sono commercianti che provano ad arginare questo problema. È il caso del bar Mameli qui a cavallo tra centro e zona mare di Pesaro. Bar Mameli che ha scelto da questa settimana una ricetta particolare per andare incontro ai clienti. Sì abbiamo deciso di attuare questa colazione anti-inflazione e quindi caffè brioche a soli 2 euro. Ci teniamo a precisare che abbiamo abbassato il prezzo ma la qualità rimane comunque alta perché abbiamo brioche sempre fresche, del forno fattori e il caffè mass. Abbiamo deciso di ridurre un po' il nostro margine di guadagno perché come hai appena detto tu crediamo che in un momento di difficoltà economica come quello che stiamo attraversando sia giusto che ognuno debba un po' fare la sua parte. Quindi noi da imprenditori abbiamo scelto di attuare qualche promozione per permettere ai nostri clienti di concedersi da noi quella coccola in più, diciamo così. Voi siete in una zona ad alto tasso di uffici, di zone di lavoro, quindi magari è un bar che si presta al servizio colazioni. Avevate avvertito un calo considerato i prezzi in crescita? Diciamo che è normale che le famiglie se prima si concedevano magari 3-4 colazioni a settimana iniziavano magari a dimezzare. Poi noi chiaramente siamo un bar, facciamo colazioni ma puntiamo anche sul pranzo perché facciamo piadine fatte in casa, facciamo hamburger, insalatone piuttosto che patatine fritte quindi diciamo che abbiamo un range che non comprende solo il semplice bar. Però abbiamo visto che è stata molto apprezzata questa iniziativa, diciamo così. Si va incontro al cliente però c'è anche il gestore, l'esercente che deve comunque arrangiarsi su un caro vita, un caro prezzi che incide anche su di voi. Quello sicuramente, però crediamo che, come ho detto prima, diminuire un pelino il nostro margine di guadagno sia una cosa fattibile che vada appunto incontro al cliente e dopodiché ti riporti anche lo stesso cliente magari a venire una volta in più a pranzo, a conoscerti. Abbiamo attuato anche un'altra iniziativa che è l'aperitivo della domenica, facciamo un aperitivo a 8 euro con un gran buffet, con la musica, quindi ecco stiamo cercando di promuovere tante iniziative per farci conoscere, per appunto coccolare i nostri clienti. Questa promozione è cominciata lunedì, avete già avuto riscontri da parte dei clienti, curiosità su questo tipo di iniziativa? Abbiamo avuto un riscontro molto positivo dai clienti perché chiaramente, ripeto, dare un buon prodotto e diminuire il prezzo penso che sia apprezzato dalle persone che capiscono il fatto di venirci incontro e di fare un passo indietro noi per agevolare il cliente e insomma coccolarlo. Offrite questo servizio dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 11, vi siete dati anche un termine temporale in cui concluderlo? No, no, assolutamente, è una cosa che abbiamo pensato di iniziare, il termine non si sa se ci sarà mai, quindi si va avanti per questa strada. A Fano l'assessore Etienne Lucarelli ha presentato questa mattina i dati di una stagione turistica che nella città della fortuna ha registrato un più 2% di arrivi nel periodo gennaio-agosto e un meno 1% sulle presenze nelle strutture ricettive, confortante l'incremento del mercato estero che ha fatto registrare un più 9% di aumento negli arrivi e un più 5% nelle presenze. E restando a Fano il sindaco Massimo Seri ha posato oggi la simbolica prima pietra per la costruzione del nuovo polo scolastico 0-6 anni da realizzare nella frazione di Cucurano. La struttura prevede 7 aule per due nuove sezioni di nido da 30 posti, 4 sezioni di infanzia da 100 posti, una nuova cucina e una nuova sala-refezione da 180 posti. L'intervento da 5 milioni e 400 mila euro punta a completare i lavori a metà 2025. Domani 19 ottobre alle ore 11 taglierà il nastro la nuova sede provinciale di Confartigianato. Sarà a Pesaro in zona Torraccia in via Bedosti 21. Sarà un punto di prossimità e servizio di un territorio che conta quasi 3.000 imprese associate e 3.500 soci. Nella sede saranno presenti gli uffici dedicati ai servizi fiscale, lavoro, welfare, credito, energia e gas, oltre agli uffici sindacali e al patronato. Iniziano domani gli spettacoli in concorso al 76esimo Festival d'Arte Drammatica GAD. Il primo degli otto spettacoli in competizione sarà la Calandria della compagnia al Castello di Foligno, già vincitrice al GAD nel 2013 e anche nel 2017. L'appuntamento è quindi alle ore 21 al Teatro Rossini. E dal teatro andiamo a parlare di Enogastronomia perché scalda i motori la 58esima edizione della Fiera del Tartufo Bianco di Acqualagna che è stata presentata proprio in anteprima a Roma ricordando la partenza del 28 ottobre. Vediamo. La capitale del Tartufo presenta il suo evento clou nel Salotto Buono della capitale d'Italia. A Roma, al Ristorante Prati, sono state svelate le prime anticipazioni della 58esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna che taglierà il nastro il 28 ottobre in sette giornate che si chiuderanno il 12 novembre. Rappresentiamo quest'anno la 58esima Fiera che è ricca di novità tra le quali la gara tra le città del Tartufo che vi va ad elencare che sono Alba, San Mignato, Amandola, Acqualagna, Gubbio e Isernia. Una sfida ai fornelli che decreterà un vincitore ma solo per sottolineare e rilanciare un'eccellenza del prodotto Tartufo. Acqualagna rappresenta un territorio più ampio che sono le Marche. Noi siamo qui anche a rappresentare le Marche, un territorio d'eccellenza che deve essere sempre più scoperto e visitato dai turisti. Siamo in un territorio avvocato già di per sé comunque per la crescita del Tartufo, si possono raccogliere nel nostro territorio tutte e nove le tipologie di Tartufo commerciabili in Italia. È una caratteristica unica di Acqualagna. Acqualagna vanta anche la denominazione di origine, il Tartufo si può chiamare Tartufo bianco di Acqualagna o Tartufo bianco di Alba. Quindi le due denominazioni riconosciute a livello mondiale sono assolutamente queste. Ormai nel 2023 è importante parlare del Tartufo come un prodotto tutto l'anno, come una grande capacità anche di coltivazione e la misura di forestazione che prevede appunto impianti di coltivazione del Tartufo danno continuità e si è intervenuti anche dal punto di vista legislativo con una imposta sull'IVA ridotta ma per fare in modo di valorizzare una filiera, farla diventare sempre più imprenditoriale e fare in modo che oltre alla raccolta che avviene in poche parti dell'anno ci sia una continuità durante tutto l'anno. Acqualagna in questo è un grande emblema di come si raccoglie, di come si coltiva, di come si trasforma, di come si somministra poi ai consumatori. Il Tartufo è una passione, una passione incontrollata per la quale si possono fare anche delle pazzie. Non è necessario ma indispensabile. Come diceva Oscar Wilde posso rinunciare a tutto tranne che al superfluo. Per cui ben vengano queste manifestazioni, queste occasioni per conoscere. Non c'è solamente quel Tartufo ma c'è anche il Tartufo di Acqualagna. Nel calendario di Pesaro Capitale della Cultura 2024 trova spazio una nuova iniziativa a promozione della musica lirica nelle Marche. Si tratta del primo concorso lirico internazionale Tebaldi Gigli Corelli. Il concorso nasce per volontà della regione Marche che lo ha istituito e ha voluto valorizzare tre grandi nomi internazionali Tebaldi Gigli Corelli valorizzando però anche il territorio marchigiano per cui la prima tappa sarà a Pesaro e a seguire le altre città che hanno dato i Natali a questi cantanti, grandi cantanti. Pesaro nell'occasione anche delle celebrazioni della Capitale della Cultura ha voluto valorizzare questo evento indicando e individuando nel consorzio Marche Spettacolo l'ente ideale dal punto di vista della realizzazione di questa attività per le competenze realizzative e dal punto di vista anche della valorizzazione territoriale. Questo focus che permetterà per tre anni di tenere un concorso di livello internazionale che inizierà da Pesaro, poi proseguirà degli altri luoghi, delle Marche, delle lezioni degli altri artisti ma che porterà dal mese di marzo, nel mese di marzo per quattro giorni artisti selezionati da tutto il mondo che potranno partecipare con l'inizio in questi giorni che terminerà il 31 di dicembre e poi avrà la fase di selezione e preselezione per arrivare poi ai finalisti nelle giornate pesaresi del Teatro Rossini. Una bellissima opportunità non solo di visibilità per la città di Pesaro ma per rilanciare nel segno di questi grandi artisti della vocazione marchigiana alla musica è uno scenario importante dal punto di vista lirico per tanti artisti giovani che potranno quindi avere una ribalta importante, anche un premio importante e anche attraverso il riconoscimento di questo concorso entrare in programmazioni importanti delle istituzioni che partecipano al concorso mettendo a disposizione i propri sovrintendenti e i direttori artistici per una giuria che sarà presieduta da Dominique Meier direttore artistico e sovrintendente della Scala ma che poi vede assieme gli artisti i direttori artistici e sovrintendenti delle principali istituzioni marchigiane che quindi dà veramente spessore, qualità e continuità a un progetto e a un concorso che appunto parte con solo le basi per poter potenzialmente andare anche oltre i primi tre anni preventivati. E ritorniamo quindi a parlare in chiusura del nostro telegiornale di GAD perché come sapete Rossini TV è partner di questa manifestazione così longeva nel nostro territorio e voi potete premiare il miglior trailer che noi vi mostriamo tutte le sere quasi dopo il nostro telegiornale potete votarlo nella pagina Facebook del GAD Amici della Prosa questa sera vi proponiamo il trailer di Nel nome del padre della compagnia La Corte dei Folli di Fossano spettacolo che sarà in scena questa domenica, domenica 22 ottobre alle ore 21 al Teatro Rossini il trailer più votato vi ricordiamo che riceverà il premio Rossini TV in occasione della cerimonia conclusiva del festival che si terrà domenica 29 ottobre Ed ora andiamo a vedere che cosa vi aspetta su Rossini TV vi ricordiamo che subito dopo questa prima edizione del nostro telegiornale quindi alle 20.10 trovate La Finanza è per tutti, una nuova pillola di educazione finanziaria dove protagonista questa sera sarà Vincenzo Rossi in prima serata invece parleremo della presenza di Confcommercio Marche Nord al TTG di Rimini 2023 con la presentazione di tanti progetti per questa associazione di categoria e poi subito dopo mostreremo invece un'azienda del nostro territorio che era presente sempre al TTG Eventi di Rimini una bellissima azienda che ve la racconteremo alle ore 21.40 e poi vi ricordo che domani vi aspetto nella nostra rassegna stampa saremo in diretta alle 7.20 leggeremo il resto del Carlino Corriera Adriatico i titoli principali e saremo in diretta anche sulla nostra pagina Facebook e poi domani è giovedì torna una nuova puntata di Insieme a Canestro partecipate attivamente scriveteci al numero di Whatsapp che vedete in sovrimpressione oppure scriveteci nei commenti della diretta che appunto sarà anche su Facebook perché potrete vincere i biglietti per la prossima partita che vi ricordo sarà domenica, questa domenica alla Vitri Friguarena alle ore 18.30 e vi ricordo anche gli ospiti perché domani ci sarà il capitano Matteo Tamboni e poi Federico Pieri che ha giocato precedentemente nella WL e allora vi consiglio di restare con noi restate collegati su Rossini TV ma seguiteci anche sui nostri social e scaricate gratuitamente la nostra applicazione grazie e buona serata a tutti